io nevio volevo capire se te ti sei avvicinato al gioco quando magari l'azienda stava fallendo andando male oppure già prima di fare l'azienda ti ho iniziato a giocare a 14 anni a 14 anni e quella è la prima scommessa che hai fatto su cosa? il massimo? no la prima scommessa che hai fatto su cosa? allora la prima scommessa a 17 anni a cavallo a san siro trotto come? a san siro trotto a 14 anni giocavo a carte ed ero bravo anche ah ma tramisci così? poi a 17 anni ho iniziato col cavallo sono andato a san siro trotto che a me fa cagare adesso io sono un gallopista nato da lì ho vinto la prima volta e ho detto ah cazzo ma si vince i cavalli? e da lì è stata la debacca poi andavo a san siro galoppo ma che tipo di scommesso facevi? eri il tipo di scommettitore che si informa su cavalli? beh ovvio, ovvio, non ci creiamo tutto terreno, peso, fantino, galoppo e poi in più diciamo che io e Neve abbiamo l'informazione conosciamo qualche proprietario, qualche redattore e ci aiuto fantastico, 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 fantastico cioè risquadrate un attimo fantastico, abbiamo oggetto del misterio del 2023 con Gini no ragazzi, stavo istruendo la bambina un attimo oggetto del desiderio tocca a noi, tra un po', tra un po', tra un po', tra un po' non so che il pezzo tra un po', non so che il pezzo un tranquillo settembre di ricevere ahahah e quindi da lì è stato il cavalli, poi lì è stato la debacca però poi è incominciato il casino, poi bische clandestine, io giocavo ai dadi, si, ai dadi tutte le bische di Milano si quando insomma c'era più flessibilità e ai dadi non è come il casino che giochi con le fish, giochi con il cash, con tanti per terra e beh sì, bische clandestine dove venivano svolte, questa è una cosa che mi piace allora, allora a Milano c'erano tante bische posso anche dire, no? le bische, c'era Sesto, Giambellino, Palmanova, Arena, Garibaldi adesso non mi viene, vabbè comunque poi abbiamo fatto anche lì a San Siro e io andavo a giocare nelle bische e io, e io, e andarono stilato beh, no aspetta, ti ricordi, non lo disse io ho fatto un bel colpo, ho vinto 400 milioni, erano ben soldoni allora 200 milioni euro di oggi no, di più, molti di più cioè se fai il rapporto di divisione euro, ci sono molti di più vabbè sì, perché poi in frazione, cioè esatto, io ho fatto ottobre, novembre, dicembre ho vinto quasi 400 milioni io ho fatto gennaio, febbraio, marzo, aprile, quei quattro più altri 600 persi eh, quello è il problema, capito? ma la libido è quella ma noi ci piace perdere l'adrenalina lo sai cos'è? no, no, ragazzi neanche questa cosa che è bello bene il vero giocatore non gli interessa vincere il vero giocatore deve avere i soldi per il giorno dopo vincere o perdere non gliene prega una cosa gli interessa avere i soldi per il giorno dopo senti Nebio, prima mi hai detto una cosa e mi ha colpito parecchio il valore che hai sempre rispetto al lavoro, no? cioè te comunque continui a lavorare la mattina ti svegli presto, nonostante fai serata che lavoro fai? tipo di che ti occupi ora? adesso faccio il corriere coriere, posso dirlo? sì fedex fedex attenzione, abbiamo delineato salutiamo Fedex caccia la pesca, va poveri e comunque dai sempre un valore nonostante tutti per me il lavoro è sacro l'azienda lo sa della tua notorietà? sì eh ma quando tipo arrivi la mattina al lavoro ti seguono anche i tuoi capi? appena entro la mattina tutti i miei colleghi, quasi tutti ciao Nebio, poveri, poveri, poveri e poi ci deve essere anche la giusta intonazione ed è poi